Ciao e benvenuto nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Come collegare la Ledger Nano S oppure X a Metamask e a cosa serve? Lo scopriamo insieme all'interno di questo video. Quindi partiamo intanto a capire che cos'è Metamask. Metamask è un wallet non custodial, ossia che noi stessi siamo i detentori della chiave privata online che si integra nel nostro browser che può essere ad esempio Chrome, Brave oppure altri e grazie a questo wallet è possibile interagire con tutti i token sulla rete Ethereum e anche altre ad esempio come Binance Smart Chain per esempio. L'utilità principale è quella di conservare criptovalute, riceverle ed inviarle naturalmente perché è un wallet ma è anche quella di interagire con il mondo della DeFi, ossia del mercato decentralizzato delle criptovalute. È quindi possibile far interagire Metamask per effettuare operazioni di staking, yield farming e altre operazioni all'interno appunto del settore della DeFi. Si può utilizzare da solo, senza hardware wallet necessariamente, ma il metodo maggiormente sicuro è proprio quello di collegarlo ad un hardware wallet come per esempio può essere il nostro ledger. In questo modo si ottengono due vantaggi. Il primo è quello di utilizzare la tua chiave privata senza rischio di venire derubato del tuo wallet. Mi raccomando, non inserire mai la tua seed phrase, le 24 parole che hai creato al momento della creazione del wallet su qualsiasi sito. Il secondo è quello di avere tutti quei token che solitamente non sono visibili sulla tua ledger direttamente tramite app. Quindi ti faccio vedere come far ad associare la tua ledger o hardware wallet su Metamask. Ti condivido lo schermo e andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Allora, la prima operazione da fare è proprio quella di andare a scaricare Metamask. Il sito di Metamask è questo, metamask.io. Comunque ti lascio il link in descrizione perché è pieno di scam. Entrati nella pagina di Metamask possiamo selezionare per quale tipologia di dispositivo lo vogliamo. Per Chrome, ossia computer, per iOS oppure Android. Quindi è compatibile sia con Apple che con cellulari Android. In questo caso qua ci sono anche questi browser supportati, fra cui Firefox, Brave ed Edge. Dopo aver scelto il sistema operativo, cliccate su Add to Chrome in questo caso oppure Add to Brave, se vuole insomma del software che avete utilizzato, piuttosto che vi farà scaricare l'applicazione se è il cellulare. Nel mio caso appunto farò Add to Chrome, potrebbe arrivarti un avviso di sicurezza, comprendo i rischi, installo comunque. Ok, come potete vedere in questo caso qui io sto usando Avast Browser ed è compatibile anche con questo. Qui in alto a destra vedete c'è l'icona della volpe. Questo qua è il vostro Metamask. In questo caso qua basta cliccare su Inizia e qui ti chiederà se abbiamo già una frase SID, ossia se vogliamo importare la chiave privata dal nostro wallet precedentemente salvato oppure no. Oppure in questo caso qui facciamo Crea un portafoglio. Ci dice Ok, dobbiamo dare, abbiamo a consentire. E qui adesso dovremmo creare una password. Mettete la password che più vi aggrada e cliccate su Crea. Qui in questo momento qui c'è una operazione molto importante da fare che è quello di conservare la propria frase segreta. Se utilizzerete Metamask a livello di wallet principale senza hardware wallet è importante il salvataggio di questa frase. Altrimenti se dovete appunto collegarci il vostro hardware wallet in questo caso non è necessario salvare questa frase segreta. Quindi clicchiamo qui, ci verranno mostrate le parole. Queste qua sono le parole esattamente come quando hai creato la chiave privata nel tuo ledger, nel tuo hardware wallet che sia. In questo caso qua è possibile praticamente salvare queste parole in modo tale da poter riaccedere all'account di Metamask. Quindi qualora tu voglia utilizzare solo e esclusivamente Metamask in questo caso qui farai avanti e ti chiederà nuovamente di rinserire le parole per vedere se le salvate correttamente. Nel nostro caso siccome dobbiamo collegare il nostro hardware wallet non ci interessa quindi clicchiamo su Ricordamelo dopo. Qui ci dirà semplicemente se vogliamo effettuare dello swapping chiudete direttamente con la X e a posto questo qui è l'account Metamask. Qui come potete vedere c'è già il vostro account quindi c'è già il vostro indirizzo wallet. Da qui possiamo vedere le reti principali quindi la rete Ethereum solitamente insomma quella dove sono connessi tutti i token ERK20 oppure volendo è possibile aggiungere anche una rete personalizzata. Non è questo il tutorial, lo vedremo magari in un altro tutorial. In questo momento qua la cosa che a noi ci interessa è capire che in questo momento noi possiamo operare tranquillamente così utilizzando Metamask. Qualora vogliamo appunto aggiungere maggior sicurezza e vogliamo effettuare operazioni con il nostro hardware wallet in questo caso clicchiamo qua sopra dove sta questa pallina e metteremo connetti portafoglio hardware. In questo caso qui è compatibile Metamask con Ledger oppure Trezor quindi a seconda dell'hardware wallet che hai acquistato fai la tua scelta. Io ho il Ledger quindi farò la verifica con il Ledger cliccando su Ledger, connetti dal vostro Ledger in questo momento qua mi chiede di inserire la password quindi provvedo a inserire la password. Ok, una volta inserita la password nel tuo Ledger dovrai già aver preventivamente scaricato l'app di Ethereum. qualora tu non l'abbia la devi scaricare prima di effettuare questa operazione altrimenti non ti andrà a buon fine. Quindi dopo aver inserito la password andate direttamente con il Ledger direttamente selezionate la rete Ethereum quindi l'app Ethereum installata sul vostro Ledger con il Ledger attaccato al computer oppure via Bluetooth al vostro cellulare entrate dentro la rete Ethereum e in questo caso qui dopo che inizierà a effettuare tutte le verifiche del caso quindi ci tirerà fuori tutti i nostri indirizzi wallet. Allora questi qua sono tutti gli indirizzi all'interno dell'hardware wallet scegli quello che preferisci non è assolutamente importante quale in questo caso qua il primo giallo utilizzo su un altro account quindi facciamo un esempio di un nuovo wallet clicchiamo sul secondo. Ok, quindi in questo caso qui se ho già all'interno del mio account Ledger ti chiederà di creare il nome quindi scegli il nome io gli ho dato come nome Ledger1 ad esempio per fare questo tutorial. In questo caso qua puoi passare dall'account quello lì direttamente che abbiamo creato poco fa su Metamask o all'account al wallet in ogni caso quindi hardware qui c'è scritto hardware semplicemente con un click quindi qui sto sull'account non collegato alla Ledger e questo è l'account collegato alla Ledger quindi da questo punto in poi io posso fare tutte le operazioni che voglio all'interno della DeFi perché ho direttamente collegato il Ledger quando poi effettuerai una operazione all'interno della DeFi o qualsiasi altra operazione che sia anche di invio di denaro in questo caso qui dovrai collegare il tuo Ledger o il tuo Trezor che sia ed inserire la password entrare sempre nella rete Ethereum nell'app Ethereum e dare la conferma solo così in questo modo potranno essere effettuati operazioni e questo è il grado di sicurezza che ti dicevo maggiore allora qualora tu voglia interagire con un altro token che ad esempio che non sia Ethereum e non lo vedi presente nella tua schermata basta semplicemente andare su aggiungi token e qui si fa la ricerca del token per esempio USDC coin in questo caso qua basta cliccare su USDC coin clicco su avanti e in automatico aggiungi token e in automatico mi ritroverò nella mia Ledger anche gli USDC coin qualora volessi aggiungere un token che non è presente in questa lista di token perché è un token magari nuovo uscito insomma che ancora non ha diciamo l'integrazione automatica con Metamask dovrò andare su token personalizzato e basta inserire l'indirizzo di contratto del token che troveremo sul sito etherscan.io dove sarebbe praticamente la blockchain di Ethereum per farti un esempio andremo su etherscan e in questo caso qua un token qualsiasi mettiamo ad esempio OKB in questo caso qua se volessi aggiungere appunto il token OKB basta semplicemente che questo indirizzo di contratto cliccando qui su copia lo rimetto su Metamask quindi rifaccio l'operazione che ogni volta esce inserisco l'indirizzo di contratto in automatico lui mi troverà il simbolo del token le cifre decimali cliccando su avanti aggiungi token ritornando indietro in questo momento ho anche OKB bene questo tutorial è finito mi raccomando iscriviti al canale per non perdere altri tutorial altre informazioni nuovi token il mio canale è sempre in continuo movimento quindi iscriviti metti mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao dal Marchese de Cripto